Le cinque città principali, come deve finire secondo lei? Ma no, guardi, allora io non so come finiranno... Perché nel centrodestra non finisca Stracci? No, allora... No, non lo so, adesso... Allora, io non so come finiranno le amministrative, però posso dirle che ho invece una certezza, e la certezza è che Fratelli d'Italia sicuramente salirà come percentuali di lista in tutti i comuni italiani dove si va a votare, e sono certa... Ma se superate la Lega, lì sono loro, no? Eh, se supereremo la Lega, utilizzeremo lo stesso principio che è sempre stato utilizzato, per cui il leader del centrodestra è il leader del partito che prende più preferenze. E ho chiesto alla senatrice Castellone...